ringrazio gli amici direttori e codirettori di questo importante evento ringrazio anche per averci dato la possibilità di moderare una sessione così interessante forse una sessione a cui siamo meno abituati perché parliamo sempre di rivascolarizzazione coronarica oggi parleremo di quelle condizioni in cui invece non sempre la rivascolarizzazione coronarica risultiva o non lo è stata inviterei quindi a questo punto il primo relatore che dottor alluni a introdurci il tema refractory angina from pathophysiology through clinical trials prego dottor alluni intanto io ringrazio anch'io il professor de ferrari il professor rinaldi dottor marra e professor gaeta e carlo budano che sono riusciti a mettere veramente in piedi una macchina difficile quindi il mio compito è quello di introdurre l'angina refrattaria un argomento che mi ha molto a cuore perché mi occupo di questo dal diverso tempo la prima prima diapositiva inizia con una domanda in realtà cioè l'angina refrattaria esiste oppure soltanto un mito perché perché questo intanto non esistono dati epidemiologici né nelle linee guida americane e né nelle linee guida europee i pochi dati che abbiamo a disposizione sono dati che ci arrivano dagli esperti cioè da quei pochi che si occupano dell'argomento era altra cosa importante che non esiste oggi un DRG che determini l'angina refrattaria questo di per sé dal punto di vista epidemiologico è un problema perché noi sappiamo che molti di questi pazienti non riescono neanche arrivare in cardiologia perché si fermano magari prima nel percorso nelle medicine perché dal punto di vista cardiologico vengono definiti pazienti non trattabili e quindi questo limita molto l'impatto epidemiologico di questi pazienti e se però noi guardiamo adesso parlare di epidemia sottostimate in un periodo di epidemia è difficile però ed è una forzatura se noi pensiamo che più del 4 per cento dei pazienti che hanno sopra i 65 anni hanno angina e che di tutto quello che noi abbiamo a disposizione oggi per la rivascolarizzazione quindi angioplastica chirurgia mini invasiva e terapia in realtà ancora il 20 30 per cento dei pazienti ha episodi ricordati di angina possiamo pensare che quel 5 10 per cento che abbiamo visto prima in realtà è un numero estremamente importante quello che emerge però è che non abbiamo studi grossi che ci dicono che ci definiscono l'impatto epidemiologico dell'angina refrattaria cioè noi quelli che abbiamo a disposizione sono soltanto studi di piccoli gruppi studi di registro peraltro non neanche tanto recenti però che ci dicono che in realtà l'incidenza varia tra il 2 e 5 e 12 per cento quindi se consideriamo quel 4 per cento iniziale in realtà è una popolazione non piccola sicuramente è cambiato molto il panorama di trattamento e gli outcome della malattia coronale che noi sappiamo che negli ultimi dieci anni si è ridotta di molto maltrittà questo grazie al miglioramento della terapia alla possibilità di eseguire angioplastiche plurime complesse alla possibilità delle cto e alla possibilità della di avere un'educazione sanitaria e una prevenzione importante e quindi di pari passo si è ridotta anche quella che verosimilmente la mortalità dell'angina refrattaria anche in questo caso però tutti i dati a disposizione in realtà sono dati di piccole popolazioni di pazienti però sicuramente il trend della mortalità è legato poi la mortalità cardiovascolare generale un dato recente che in realtà un bellissimo studio di Henry ci dice che in realtà con un follow up molto lungo perché un follow up a dieci anni ed è il più grosso che è stato fatto ci dice che in realtà conferma che i pazienti in realtà con angina refrattaria hanno una modesta mortalità quindi più del 77 per cento e riesce a vivere altri nove anni quindi diventa più un punto di di qualità che di outcome tipo mortalità perché perché noi alla fine abbiamo dei pazienti che hanno una lunga aspettativa di vita ma che hanno una qualità di vita estremamente compromessa perché hanno ripetuti episodi di angina perché molto probabilmente hanno diversi tipi di ricoveri diversi ricoveri e quindi questo limita molto la loro qualità di vita un limite sicuramente epidemiologico in realtà nasce già dalla definizione di quello che ci danno le linee guida sulla definizione di angina in realtà noi sappiamo che dalle linee guida la definizione di angina è data da un paziente che ha una sintomatologia tipica da più di tre mesi deve avere un'ischemia miocardica inducibile e deve essere escluso da ogni tipo di vascularizzazione con una terapia medica ottimale poi se andiamo in realtà a vedere quale sono le caratteristiche anatomiche dei pazienti scopriamo che circa il 50 per cento dei pazienti che hanno un test positivo in realtà scusate non hanno una malattia cronica non hanno una malattia ostruttiva e in realtà poi esiste tutto un gruppo eterogeneo di pazienti che hanno in realtà sintomi tipici e però hanno una prova da sforzo negativa oppure che hanno sintomi sospetti e hanno una prova da sforzo dubbia oppure pazienti che non possono fare la prova da sforzo immaginiamo un paziente magari anziano con insufficienza renale che non riesce a camminare quindi che ha una finestra acustica inadeguata per eseguire il costo stress quindi in realtà esiste tutto un gruppo di pazienti che comunque nonostante abbia angina in realtà non ha una malattia cronica critica e quindi diventa importante andarsi a cercare quelli che sono gli altri meccanismi in realtà della genesi dell'angina refrattaria cioè eliminare o comunque non considerare soltanto quelli che hanno una patologia ostruttiva ma tutto un gruppo eterogeneo di pazienti che ha per esempio una malattia diffusa dove sappiamo che poi l'angioplastica in realtà ha un effetto limitato pazienti che hanno un brige intramiocardico, pazienti che hanno un'ipertrofia ventricolare sinistra quindi il meccanismo poi che genera l'angina non deve essere soltanto limitato alla malattia ostruttiva ma tutta una serie di patologie anche considerando quello che è il sintomo quindi andarsi a cercare anche un aspetto neuroendogeno sulla percezione del sintomo anginoso questo è uno studio molto interessante perché conferma oltre il fatto che circa il 38% dei pazienti che avevano subito una coronografia non avevano malattia cronica occlusiva però ci dice anche che in questo gruppo eterogeneo di pazienti in realtà se io vado a studiare funzionalmente questa anatomia coronarica in realtà posso arrivare anche a determinare quale può essere la terapia migliore per questi pazienti questi sono tre gruppi di pazienti nel quale lo studio funzionale in realtà ci mostra tre pattern diversi cioè ci mostra dei pazienti che hanno un'angina vasospastica dei pazienti che hanno una malattia del microcircolo quindi con due possibilità terapeutiche diverse e poi dei pazienti che possono essere anche non più etichettati come angina refrataria perché hanno uno studio funzionale normale con un dolore in realtà che non era poi così tipico e questo permetterebbe in realtà di ottimizzare la terapia per questi pazienti esiste poi in realtà un dilemma, esistono molti pazienti, noi sappiamo che il 70% dei pazienti che hanno un'ischemia silente senza essere sintomatici dall'altra parte in realtà ci sono dei pazienti che hanno una forte percezione del dolore pur in assenza di un chiaro test di ischemia quindi pazienti che non hanno ischemia ma hanno un'angina tipica e questo in realtà è un aspetto molto importante viene in realtà in parte diciamo confermato comunque sospettato da questo studio che non è recentissimo ma secondo me molto interessante dove ci dice per esempio che i pazienti che hanno un'ischemia silente in realtà hanno un pattern di attivazione cerebrale del dolore estremamente eterogeneo mentre i pazienti che hanno una forte percezione del dolore rispetto al fatto di non avere un test di ischemia positiva hanno un pattern di attivazione cerebrale simile questo potrebbe essere utile per esempio per indirizzare una terapia neuroendogena su pazienti che hanno in realtà sintomi anginosi senza avere in realtà un test di ischemia positivo quindi venendo dalla fisiopatologia l'ischemia e di conseguenza l'angina è una interazione complessa di malfunzionamento sia del microcircolo che del macrocircolo quindi inteso come malattia coronarica e sia del metabolismo dei miociti questo in realtà deve essere visto come un complesso meccanismo cuore-cervello che in realtà limita e amplifica quello che è la soglia soggettiva anginosa del paziente questo potrebbe essere utile in realtà per mirare per avere una terapia più ottimale per il singolo tipo di paziente legato alla caratteristica clinica di ognuno in realtà quello che ci dicono le linee guida che lo scopo del nostro trattamento deve essere quello di in realtà ridurre l'angina per migliorare la qualità di vita dei pazienti cercando di ridurre quelli che sono i ricoveri di questi pazienti e migliorandone la qualità della vita ed è per questo che dal punto di vista terapeutico e ho quasi concluso dobbiamo cercare di utilizzare più terapie possibili anche tra loro combinate non soltanto limitandole al trattamento diretto miocardico ma cercando anche di andare a modulare quello che è la percezione neuroendogena del dolore questo potrebbe in realtà essere utile cercando di mirare la terapia per il fenotipo di ogni paziente quindi legato alle caratteristiche cliniche le caratteristiche anatomiche e la percezione del dolore e concludo in realtà con dei punti che abbiamo visto fino adesso e cioè che la curva epidemiologica sicuramente l'angina nefrattaria ha avuto un cambiamento nell'ultima decade che questi pazienti in realtà hanno un'aspettativa di vita molto lunga considerando però una qualità di vita molto bassa che gli stessi pazienti hanno necessità loro stessi di avere una terapia che gli faccia migliorare i sintomi cioè noi li trattiamo però loro continuano ad essere sintomatici e questo delle volte non lo capiscono sapere che l'angina nefrattaria non è legata soltanto alla malattia coronarica ostruttiva ma è un complesso meccanismo con dei fenotipi ben diversi di pazienti e che quindi la terapia va mirata proprio con le caratteristiche fenotipiche del singolo paziente non utilizzando una terapia unica per tutti ma proprio un vestito che viene calzato addosso a seconda della caratteristica somatica del paziente ho concluso, grazie grazie, grazie Gianluca credo che tu abbia puntualizzato molto bene la complessità di questa patologia di questo sintomo perché alla fine parliamo di un sintomo che riconosce delle cause estremamente differenti riconosce una complessità fisiopatologica per cui è chiaro che le risposte terapeutiche non potranno essersi semplici ma dovranno essere anche queste delle risposte terapeutiche complesse e quindi andiamo adesso alla seconda relazione la relazione che terrà il dottor Zimarino che saluto e vedo collegato da remoto che ci parlerà della terapia shockwave nell'engine refattaria fin dove possiamo arrivare un argomento estremamente di attualità un argomento nuovo e quindi diamo immediatamente la parola a Marco Zimarino prego grazie io l'unica cosa ho un attimo problema con l'avanzamento delle immagini posso chiedere la cortesia alla regia di avanzare le immagini per me? perché il link che mi è stato dato funzionava fino a 5 minuti fa ora non funziona più grazie ok il mio unico conflitto mi sentite? ok il mio unico conflitto di interesse è che io sono un cardiologo interventista e quindi alla prossima diapositiva cercherò di andiamo alla prossima diapositiva cercherò di riconciliare avanti il rapporto tra la terapia con shockwave e l'anginale fra 3 partendo proprio dalla terapia con shock di questa terapia innovativa che è focalizzata al trattamento delle lesioni calcifiche vedete che le lesioni calcifiche non sono una variabile semplicemente morfologica perché sono praticamente insieme alla syntax score l'unica variabile predittiva di outcome su serie di trial messi in pool cioè raggruppati che sono patient based nell'analisi e sono direttamente correlati alla mortalità del paziente quindi oggi andiamo avanti abbiamo questa grande innovazione che in effetti è una derivata è una derivata dell'urologia perché la litotrissia serve per rompere i calcoli che cos'è la litotrissia è la generazione di onde acustiche onde rettangolari che vengono praticamente erogate all'interno del lume vascolare con un pallone che aderisce che serve solo di sostegno per aderire e simmetrizzare l'erogazione all'interno delle coronarie e la emissione di onde acustiche genera una differenza di capacità di vibrazione tra il tessuto calcifico e la parete non calcifica generando delle fratture all'interno del calcio queste fratture consentono alla lesione calcifica di essere poi dilatate dopo i primi studi di fattibilità durante l'ultimo TCT è stato presentato il Disrupt CAD in cui è stata documentata sia efficacia che efficienza in termini di sicurezza dello shockwave su una popolazione di quasi 500 pazienti quindi stiamo procedendo dopo questa fase 3 all'applicazione e alla verifica nelle varie nei vari scenari clinici di pazienti che avevano difficoltà di trattamento in cardiologia interventista e vediamo con la prossima un caso esemplificativo vedete qui c'è la rottura purtroppo una situazione molto frustrante per il cardiologo interventista la rottura con la fuoriuscita di contrasto all'interno di un pallone che in una coronaria destra diffusamente calcifica già stentata rende estremamente complesso il nostro lavoro ok grazie possiamo andare alla diapositiva successiva abbiamo la possibilità il caso era questo potete vedere possiamo andare avanti in modo da visualizzare i vari segmenti ancora avanti i vari segmenti che sono praticamente il primo segmento in A c'è una lesione di truciamento calcifica era quella sulla quale si era rotto il pallone B e C sono una ristenosi intra-stent sia con mancata espansione dello stent che nell'ultima anche una neoaterosclerosi generata all'interno dello stent e possiamo vedere che dopo il trattamento con l'ipotrissia abbiamo una ci viene l'ipotrissia erogata fondamentalmente sulle due sedi ai segmenti prossimali e medio andiamo avanti con la successiva e qui possiamo andare anche a mostrare il risultato abbiamo consentito nel primo segmento la posizione di un stent adeguatamente diciamo accettabilmente espanso e nelle altre due seconda e terza seconda e terzo frame possiamo vedere una adeguata espansione con una esternalizzazione neointima nella slide G e una adeguata espansione dello stent vedete abbiamo anche l'immagine di riferimento quindi abbiamo in questo scenario qui c'è un algoritmo per le biforcazioni ma quindi nello scenario armamentare del cardiologo interventista abbiamo oggi anche l'inserimento di questa ulteriore opzione possiamo vedere che nel caso di la presenza di una lesione severamente calcifica possiamo andare avanti vediamo che nel caso di biforcazioni si posiziona una doppia guida ma lo snodo fondamentale è la traversabilità cioè la crossabilità della lesione nel caso la lesione può essere attraversata la nitrotrisia a questo punto diventa un trattamento estremamente conveniente nel caso non si riesca a attraversare o non si riesca a dilatare con nitrotrisia o con altri sistemi allora bisogna necessariamente far ricorso ai vecchi sistemi di aterotomia oggi oltre alla rotazionale c'è anche l'orbitativa ma sono comunque sistemi estremamente aggressivi che sono anche accompagnati da una elevata percentuale sia di complicanze che di danno per i procedurali andiamo avanti con la prossima e comunque la litrotrisia ci diventa anche vedete anche in questo caso uno dei primi casi pubblicati in letteratura di grande aiuto per la possibilità addirittura di trattare le lesioni che prima non consideravamo trattabili ovvero gli stent non espansi questa è una situazione di stent non espansi per calcificazioni esterne l'erogazione di queste onde acustiche permettono di frammentare nell'interfaccia la calcificazione e quindi consentirne l'espandibilità successiva avanti con l'opositiva successiva e quindi questo è uno scenario che consente di ritornare allo splendido meccanismo fisiotopatologico che ha prima enunciato il professor Ranulni cioè avanti alla angina refrattaria angina refrattaria che però possiamo andare avanti con la diapositiva successiva idealmente si colloca nello scenario di una cascata ischemica vedete che parte ovviamente nella interazione ed è diciamo l'epifenomeno la punta di iceberg di un'ischemia sottostante non sempre così avanti noi emodinamisti siamo un po' focalizzati avanti a diapositiva successiva siamo un po' focalizzati diapositiva successiva sulla parte centrale sul core della cascata ischemica fondamentalmente sulla riduzione di apporto di ossigeno causata dalla riduzione di flusso coronarico non è sempre questo ma vediamo che questo è il meccanismo più importante perché vediamo con la diapositiva successiva mi è piacere presentare un nostro collaboratore che ha obbligato l'anno scorso questa meta-analisi sulla rilevanza clinica e prognostica dell'angina in assenza di malattia coronarica potete vedere che negli studi la incidenza di mortalità annua è estremamente bassa e comunque la variabile fondamentale dell'incidenza di eventi avversi è fondamentalmente dovuta alla presenza o assenza di malattia coronarica anche l'ischemia non è un major player in termini prognostici lo è la malattia coronarica stessa con gran differenza tra i pazienti arruolati in assenza di malattia coronarica a coronarie perfettamente indegni a quelli con presenza di una qualsiasi malattia coronarica inferiore comunque sempre al 50% quindi andiamo avanti con le conclusioni quindi diciamo che seppur non unico attore nell'anginare frattare la malattia coronarica è comunque l'attore più importante quindi possiamo andare a concludere che sicuramente la l'idrotressia intravascolare con lo shockwave genera delle onde meccaniche che si propagano all'interno del pallone fratturano una calcificazione per questa differente impedenza acustica tra tessuto duro e tessuto soffice senza danneggiare il sottosofice e lo shockwave è stato recentemente traslato dall'ambito urologico e proposto per il trattamento sia di lesioni calcifiche de novo sia della sottoespansione dello stentro fondamentalmente data da le calcificazioni esterne e anche le lesioni delle cristiano sintassanti infattate ricordiamoci che comunque nel trattamento dell'angina refrattaria la malattia coronarica è il fattore D più determinante in quanto i pazienti con angina pur refrattaria ma in assenza una malattia coronarica identificabile hanno una prognosi praticamente simile a quelli di una popolazione normale senza angina con gli stessi fattori di rischio vi ringrazio per l'attenzione per quanto riguarda la discussione delle relazioni vorremmo come dire procedere alla discussione al termine delle quattro relazioni previste e se è d'accordo anche il professor Porto se non ha nulla da aggiungere adesso ne parleremo poi tutti insieme al termine il terzo relatore è un amico un grande amico ed ho veramente piacere di presentarlo perché di Roberto Garbo è esperto in trattamento di occlusioni coronari che ho visto muovere i primi passi molti anni fa quindi l'ho proprio visto da giovane emodinamista intraprendere questa carriera questa passione del trattamento delle lesioni coronariche delle ostruzioni coronariche delle occlusioni coronariche croniche fino ad arrivare oggi ad essere uno dei massimi esperti non solo italiani quindi Roberto a te la parola su Refractory Angine Coronary Chronic Total Occlusion Grazie Patrizia voglio unirmi anche io ai complimenti per l'organizzazione di queste trentaduesime giornate ai direttori quindi il professore Rinaldi De Ferrari e Gaita e Marra che hanno iniziato anni e anni fa e vedete il successo comunque di questo evento nonostante la situazione molto molto critica come ha sottolineato anche la dottoressa Chinaglia allora mi piace molto questa sessione sull'angina refrattaria perché consente poi di fare anche una bella discussione ho visto che c'è anche collegato un amico Italo Porto da Genova per cui spero ci sia lo spazio di discutere tutti insieme a me tocca la parte sulle occlusioni croniche quindi partirei dalla definizione di cos'è è un'ostruzione coronarica totale che è datata da oltre tre mesi tre mesi in su e sappiamo benissimo che l'epidemiologia è un'epidemiologia importante perché se voi vedete questi studi di più di 15 anni fa in un laboratorio di emodinamica oltre il 25% dei pazienti che vengono studiati per un problema coronarico hanno un'occasione cronica e tra quelli che hanno un'occasione significativa quindi critica oltre il 70% siamo alla metà quindi la metà di essi hanno almeno un'occusione e non tutti i pazienti devono essere trattati questo lo sappiamo bene se vediamo il trattamento fermo il 2005 in alto abbiamo i pazienti con l'occusione cronica in basso quelli con la malattia non non ostruttiva totale il trattamento già allora era molto diverso quindi molti pazienti lasciati in terapia medica molti pazienti operati di bypass questo perché perché se noi andiamo a vedere i dati degli anni 90 agli anni 2000 il successo delle procedure delle CTO era molto basso quindi si arrivava al 50 60% con un alto tasso di complicanza per cui si cercava di evitare di trattare questi pazienti dagli anni 2000 una serie di tecniche innovative materiali esperienza ha portato a cambiare completamente risultati come vedremo arrivando alle linee guida del 2018 sulla rivascolarizzazione vedete che in classe 2A la rivascolarizzazione di una CTO è considerata deve essere considerata nei pazienti con angina refrattaria alla terapia medica o con una alta area di ischemia documentata nel territorio del base chiuso quindi classe 2A se andiamo a vedere il perché l'ischemia sia nei pazienti con occusione cronica lo vediamo da questo studio di Werner datato 2006 dove nonostante vi siano i collaterali i collaterali ci servono sono fondamentali per preservare la vitalità del miocardio ma nel 95% dei casi non sono dei sostituti dell'arteria aperta questo ci fa capire quanto sia importante la dose di ischemia nei pazienti con occusione cronica andiamo a vedere le linee guida del 2019 quindi recentemente pubblicate sull'angina refrattaria la definizione di angina refrattaria come vi ha detto il dottor Alunni è una angina che dura da oltre tre mesi quindi vedete che i tre mesi rientrano anche poi nel discorso dell'occusione cronica dovuta a un'ischemia reversibile in presenza di lesioni ostruttive coronariche abbiamo visto anche che l'angina refrattaria è anche in assenza di malattia coronarica ma nella gran parte dei casi la malattia coronarica è presente questa angina non può essere controllata dalla terapia medica o non può essere eseguita una rivascolarizzazione o con bypass o con angioplastica includendo l'occusione coronarica cronica la qualità della vita di questi pazienti è molto povera con frequenti ospedalizzazioni le terapie alternative che sono nate negli ultimi anni potenziali sono terapie di cui alcune ne abbiamo già viste altre le vedremo in seguito passano dalla contropulsazione esterna alla reducere nel seno coronarico alla neurostimolazione per alcuni tipi di pazienti vi sono comunque alcune situazioni in cui le linee guida sono chiare cioè devono essere pazienti con angina debilitante nella quale però le rivascolarizzazioni le strategie di rivascolarizzazione hanno fallito e la terapia medica non è sufficiente quindi proprio per questo è stato creato nel 2019 un documento di consenso globale di oltre 100 esperti nel trattamento delle occlusioni croniche pubblicato su Circulation dove abbiamo evidenziato sette punti fondamentali che ci portano a guidarci nel trattamento dell'occlusioni cronica il primo punto in rosso la principale indicazione è migliorare i sintomi questo perché lo studio l'Eurocto trial che è uno studio randomizzato che aveva come end point un questionario il SIAT per valutare la qualità della vita la riduzione dell'angina ha dimostrato e la limitazione fisica ha dimostrato come i pazienti trattati con riapertura dell'occlusioni croniche avevano un netto beneficio in termini di riduzione dell'angina miglioramento della qualità della vita e tutto questo ha portato comunque a evidenziare che il gruppo di pazienti con sintomatologia che vanno incontro a beneficio nella riapertura della coronaria chiusa un altro studio il factor study che ha evidenziato due gruppi di pazienti gli asintomatici e i sintomatici vedete che nel riquadro rosso dimostra come i pazienti che si beneficiano di più del trattamento di una CTO di una riapertura di una coronaria chiusa sono proprio i pazienti sintomatici perché sono quelli che hanno un miglioramento della qualità della vita di una miglior tolleranza agli sforzi una riduzione dell'angina il sesto punto di queste linee guida sono questi interventi complessi diciamo che il trattamento delle occlusioni croniche viene considerato il tipo di intervento più complesso in cardiologia interventistica questo perché implica grossa esperienza conoscenza dei materiali conoscenza delle tecniche gestione delle complicanze quindi un punto fondamentale deve essere eseguito in centri con ottima esperienza e con un equipaggiamento completo di materiali proprio per questo adesso viene gli ultimi anni un grosso incremento comunque di centri che vogliono imparare queste tecniche per cui il proctoraggio quindi la learning l'education è un elemento fondamentale andiamo a vedere il registro americano su oltre 590.000 procedure eseguite negli Stati Uniti dal 2009 al 2013 vedete come le occlusioni croniche occupano il 3% delle procedure totali con un successo inaccettabile siamo dal 55 al 59% questo perché perché negli Stati Uniti soltanto 8 operatori tra tutti quelli che erano inclusi nel registro erano operatori CTO dedicati avevano esperienza per poter fare queste procedure che avevano fatto più di 50 procedure di CTO all'anno vedete che il diagramma è chiarissimo cioè i pazienti che hanno un aumento dell'esperienza quindi un numero di procedure adeguato arrivano anche a un 90% di successo e di conseguenza l'incremento del successo con l'esperienza porta anche a una riduzione dei MACE quindi delle complicanze procedurali la mia esperienza in questo grafico degli ultimi 10 anni evidenzia come quando abbiamo iniziato con Patrizia e con Massimo questo progetto al San Giovanni Bosco mi ha portato a passare da 50 casi all'anno a oltre i 200 casi del 2019 vedete che la curva la percentuale di successo è salita già da un valore che non era non era malvagio del 75-78% fino a superare il 90% di successo degli ultimi 3 anni con casi però bisogna dire sempre più complessi vi mostro adesso due casi emblematici per stimolare anche la discussione il primo caso è un uomo di 65 anni che ad agosto del 2015 per un'angina ingravescente e un'occlusione di questo ramo marginale in un altro centro ha eseguito un tentativo di riapertura senza successo con una dilatazione subintimale e purtroppo una mancata riapertura del vaso dopo alcuni mesi passiamo per questioni di velocità al terzo tentativo torna in ospedale per una recidiva di angina intrattabile con la terapia medica nello stesso centro provano a riaprire questa coronaria e non ci riescono siamo al 2016 stessa cosa risultato peggio del primo a quel punto il paziente però non credo che decisi di andare in ospedale per divertirsi quindi l'angina era assolutamente inaccettabile ad agosto 2016 quarto tentativo sempre nello stesso centro con un risultato che è assolutamente peggiore vedete la dissezione estesa e il vaso sempre chiuso per cui mi era stato inviato prima di era già stato programmato per un intervento con il reducer quindi un intervento per ridurre l'angina mi hanno detto ma tu te la senti di provare un'ennesima volta noi abbiamo provato a San Giovanni Bosco era se non sbaglio il novembre del 2016 questo è il risultato del quarto tentativo chiaramente con un approccio diverso un approccio retrogrado perché ormai la via tradizionale era stata completamente distrutta dai vari tentativi questo è l'approccio quindi dalla coronaria destra verso la coronaria sinistra questa è un'angioplastica complessa attraverso un collaterale picardico molto sottile bisogna avere esperienza e materiali questo è un microcatetere retrogrado l'attraversamento del collaterale è registrato in scopia quindi è interessante vedere come queste guide nuove riescono a percorrere strade che sembravano una volta impossibili quindi si utilizzano guide particolari per attraversare il collaterale adesso con un po' di pazienza vedrete il passaggio della guida poi bisogna passare con il microcatetere seguire quindi attraverso questa piccola strada che si è creata vedete questo è il passaggio della guida che avanza col battito cardiaco e con delicatezza si riesce a farla avanzare e si porta il microcatetere dall'altra parte a quel punto l'attraversamento dell'occlusione con una guida dedicata è rapidissimo vedete che è una registrazione della scopia in 10-15 secondi questo perché il cappuccio di stale dell'occlusione non era mai stato toccato quindi a quel punto la guida facilmente rientra nell'altro catetere si esternalizza il microcatetere e si esegue l'angioplastica con questo risultato guardate che ramo è venuto fuori il paziente è stato poi seguito clinicamente per tutti questi anni non ha mai più avuto recidive di angina e l'ultimo follow up a 4 anni è asintomatico con una scintigrafia negativa il secondo caso è un caso di un paziente bypassato anche questo fatto nel 2015 per cui abbiamo poi il follow up a distanza era un'occlusione della destra che da 25 anni con un intervento di bypass con bypass venosi sulla destra e una mammaria sulla dissenente anteriore la mammaria aperta e il graft venoso deteriorato per cui continuava a avere angina e avevamo fatto un tentativo in un altro centro in efficace di riapertura anche questo paziente inviato per un reducer è stato poi fatto a Torino a San Giovanni Bosco l'ho fatto io attraverso questo ramo collaterale epicardico della circonflessa con tecniche particolari utilizzo dei microcateteri a doppio lume microcateteri dedicati proprio a questo tipo di intervento andiamo velocemente al risultato questo per dimostrare che l'utilizzo di tecniche avanzate consente di avere questo è il rientro della guida retrograda con un'estensione di catetere e questo è il risultato finale questo paziente è stato studiato poi dopo un anno in questo altro centro per valutare il risultato a distanza e non ho il film ma la distalità della destra era diventata enorme per cui questo vaso con una distribuzione molto ampia è ancora migliorato il suo flusso il paziente è stato completamente asintomatico a 5 anni a questo punto direi possiamo concludere con le considerazioni finali pazienti con angina refrattaria e occlusione cronica per me la prima opzione deve essere assolutamente provare ad aprire il vaso chiuso cronicamente perché è la prima indicazione deve essere fatto con centri in centri di esperienza con un equipaggiamento completo di materiali anche per gestire eventuali complicanze quindi questo include anche l'utilizzo di spirali per eventuali perforazioni e soltanto nei casi di failure senza indicazione poi alla levascularizzazione chirurgica nuovi trattamenti per angina refrattaria devono essere presi in considerazione ringrazio grazie grazie Roberto bellissima relazione casi molto interessanti le tecniche sono sempre più più adatte in questa patologia e forse e sicuramente in buone mani abbiamo visto dei risultati ottimi diamo ora la parola alla quarta relazione che è una relazione del dottore Agostoni che ci parla del reducer del seno coronarico prego il dottore Agostoni ci parla da remoto buongiorno e grazie per avermi qui con voi anche se soltanto in modo virtuale oggi parlerò di un nuovo device per il trattamento dei malati con angina refrattaria e il device si chiama reducer ed è impiantato nel seno coronarico fatemi partire con un esempio pratico una donna di 70 anni con angina refrattaria classe 3 storia di bypass e infarto nel passato ischemia dimostrata con la stress MRI in territorio della destra e della circunflessa è un infarto subendocardico anteroapicale quindi un grosso bel ordine ischemico alla coronarografia troviamo questa situazione una destra chiusa diffusamente malata distalmente è un vaso relativamente non grandissimo è una struttura sinistra che nonostante i bypass siano perfettamente aperti dimostra malattia totalmente diffusa e fondamentalmente non trattabile in modo percutaneo quindi questa paziente è un po' end stage in termini di trattamento di rivascularizzazione non essendoci opzioni reali di trattamento a questa paziente è stato offerto questo device che è appunto il reducer per il seno coronarico che cos'è esattamente il reducer è uno stent che ha la forma di clessidra fondamentalmente viene impiantato nel seno coronarico e l'obiettivo è di creare una stenosi controllata del seno coronarico stesso il device è un one fits all device quindi c'è una misura sola e la gestione dell'impianto per matchare il device all'anatomia del seno coronarico viene fatta con le pressioni quindi se aumentiamo la pressione di impianto aumentiamo anche i diametri prossimali di strada del device prima che possiamo adattare il device al seno coronarico stesso importante è notare che la stenosi centrale a livello proprio del centro del device rimane costante ed ha un diametro di circa 3 mm a che cosa serve il reducer il reducer serve per il trattamento dell'angina refrattaria quindi pazienti con ischianimia dimostrata con sintomi anginosi che non hanno più opzioni di rivascularizzazione e sono già in terapia medica massimale sappiamo che questa angina refrattaria è in crescita è intorno al 5-15% dei nostri pazienti ed ha un impatto importante soprattutto sulla qualità di vita dei pazienti che devono prendere multiple medicine sono limitati dal punto di vista proprio qualitativo nella loro vita e vanno spesso in ospedale per attacchi anginosi importanti come si impianta il reducer è una tecnica relativamente facile l'accesso è attraverso la vena giugulare di solito quindi a livello del collo si preferisce la vena a destra perché è più diretta verso l'atrio di destra si introduce un introduttore da 9 french poi con un multipurpose o con un amplatz sinistro si cerca il seno coronarico che di solito dopo un po' di esperienza è facilmente trovabile si incannola il seno coronarico fino in fondo e si prende un'immagine angiografica del seno coronarico come in questa slide in modo che possiamo determinare la dimensione del seno coronarico e la sede poi di impianto del reducer una volta fatta questa immagine si lascia una guida 0035 in sede nel seno coronarico si ritira il nostro catetere diagnostico 6 french e poi si costruisce un sistema mother and child con lo stesso catetere diagnostico 6 french dentro un catetere guida 9 french e l'obiettivo di questo sistema è di portare il catetere guida a 9 french più distale possibile dentro il seno coronarico una volta arrivati distalmente con il catetere guida a 9 french in fondo al seno coronarico si ritira il 6 french e sulla guida 035 si introduce il reducer fino al punto di impianto una volta che il reducer è in sede a livello del punto dove vogliamo impiantarlo si ritira gentilmente il catetere guida a 9 french di modo che il reducer è poi esposto nel seno coronarico e a questo punto possiamo gonfiare il device con un deflator normale in base alle pressioni decidiamo quanto vogliamo far crescere il reducer all'interno del seno coronarico è un tipo importante quello di fare una piccola iniezione di contrasto una volta che il reducer è gonfiato per cercare di ottenere un po' di oversizing del reducer rispetto al seno coronarico come in questo caso qua vediamo che il pallone prossimale del reducer è un pochino più largo del seno coronarico stesso e questo è favorevole e favorisce di più la riendotelizzazione del device una volta impiantato il reducer si ritira il pallone si fa una angiografia di controllo come in questo caso qua e vediamo qui che il reducer è impiantato è in sede e rimarrà lì per sempre e si spera che faccia il suo lavoro è interessante notare che non c'è ancora una stenosi reale del reducer all'inizio perché chiaramente lo stente è aperto anche ai lati quindi il sangue passa da tutte le parti quindi è necessario l'endotelizzazione del device perché poi la stenosi centrale del device diventi realmente efficace e questo richiede uno, due, tre mesi di tempo quindi gli effetti del reducer sono anche posticipati nel tempo dopo l'impianto di qualche mese perché è necessaria l'endotelizzazione del device come funziona il reducer? questo è ancora un punto interrogativo per la maggior parte di noi l'esatto meccanismo di funzionamento non è chiaro alcuni parlano di neorivascularizzazione tuttavia forse l'ipotesi più suggestiva che è in parte anche dimostrata da qualche studio animale è la seguente nei pazienti schemici c'è una ridistribuzione di flusso dal subendocardio al subepicardio quindi il subendocardio è quello che soffre di più durante nei pazienti cronicamente affetti da ischemia miocardica aumentando le pressioni a valle perché questo è quello che fa il reducer aumenta un po' il blocco aumenta la pressione nel ritorno venoso quindi blocca un po' il flusso di sangue questo fa in modo che le zone più sensibili a questo blocco siano le zone subepicardiche dove c'è più flusso quindi questo determina una ridistribuzione del flusso dalla zona subepicardica alla zona subendocardica e questo aiuta a ridurre il burden ischemico nei pazienti e a migliorare i sintomi qual è l'evidenza sul reducer sappiamo che ultimamente il reducer viene applicato in modo sempre più continuativo in tanti laboratori di emodinamica soprattutto in Europa quindi anche le pubblicazioni sono aumentate in modo importante negli ultimi anni le prime pubblicazioni risalgono nel 2007 le ultime pubblicazioni più recenti vediamo che sono intorno ai 15-20 pubblicazioni all'anno negli ultimi 2-3 anni partiamo dalla prima pubblicazione appunto del 2007 era il first in man in cui 15 pazienti con angina e nessuna opzione di revascularizzazione per cutaneo chirurgica sono stati trattati con il reducer e abbiamo visto in questo primo gruppo selezionato un miglioramento della classe di angina almeno di una classe di angina nell'80% dei pazienti quindi un successo clinico importante per questi pazienti un secondo studio pubblicato più recentemente nel 2014 dove il mio centro ha partecipato hai mostrato che in 21 pazienti in cui è stato impiantato il device anche qui c'è stato un miglioramento dell'angina almeno nell'80% dei pazienti quindi anche qua l'importante significato clinico di questo device in questi pazienti il terzo studio pubblicato è quello su New England Journal of Medicine del 2015 è uno studio randomizzato è lo studio principale finora riguardante il reducer ho avuto anche l'onore e il piacere di partecipare a questo studio abbiamo arrullato 104 pazienti nello studio in cui l'obiettivo era randomizzare i pazienti a trattamento con reducer oppure una procedura sham in cui i pazienti venivano sottoposti a cateterismo destro e a angiografia del seno coronarico ma non veniva poi impiantato il device e i pazienti rimanevano in cieco rispetto al trattamento e il cardiologo che valutava i pazienti a distanza per la classe di angina che era l'inpoint primario dello studio era anche in cieco quindi è uno studio in doppio cieco in termini di trattamento per il paziente e di end point per l'operatore che doveva considerare l'end point e qui se andiamo a vedere i risultati vediamo che c'è un miglioramento nel gruppo trattato con il reducer del 71% di almeno una classe anginosa e del 35% di almeno due classi anginose e questo era significativamente più alto del gruppo placebo dove c'era stato anche un miglioramento ma non è stato così evidente quindi questo studio ha dimostrato che il reducer riduce il burden anginoso riduce i sintomi nei pazienti con terapia con angina refrattaria è importante notare che questi pazienti erano tutti sottoposti a stress eco che doveva essere positivo ed erano tutti pazienti con ischemia relativa alla coronaria di sinistra e un criterio di esclusione era la presenza di pacemaker o di defibrillatori nella parte destra del cuore la mia esperienza personale è iniziata in contemporanea con la pubblicazione del Cosira ho impiantato dal 2014 tra i 10 e i 20 reducer all'anno circa e questa è la pubblicazione relativa al mio primo anno di esperienza quando erano ancora in Utrecht in Olanda abbiamo trattato 23 pazienti con questo device in tutti c'era una evidenza obiettiva di ischemia e l'empoim primario era il miglioramento anginoso avevamo dei criteri di inclusione un pochino più larghi del Cosira nel senso che accettavamo qualsiasi test da sforzo positivo accettavamo anche problemi soltanto della coronaria di destra ed era permesso trattare pazienti con il pacemaker in questo gruppo abbiamo notato chiaramente un gruppo ad alto rischio con storie di bypass nella maggior parte dei pazienti molti pazienti con diabete tecnicamente dal punto di vista tecnico la procedura era semplice 30 minuti di tempo procedurale 10 minuti di tempo fluoroscopico bassa quantità di contrasto utilizzato in media 50 millilitri successo procedurale del 100% in tutti i pazienti e abbiamo notato un miglioramento in termini anginosi anche qua circa dell'80% di almeno una classe di angina e circa del 40-45% di due classi di angina quindi dati più o meno paragonabili ai dati della lettura precedente negli ultimi anni c'è stata una moltitudine di studi pubblicati sia registri che mostravano fondamentalmente gli stessi valori di miglioramento delle classi anginose e anche sottogruppi più specifici tra cui l'angina microscolare le citioni non rivascolarizzate ed altri sottogruppi e tutti hanno dimostrato fondamentalmente che il reducer sembra funzionare in modo effettivo soprattutto dal punto di vista sintomatologico attualmente ci sono due grossi registri in corso uno è prospettico è il reducer 1 l'obiettivo è includere 400 pazienti fino adesso ce ne sono 272 inclusi anche in questi pazienti vediamo dati fondamentalmente simili ai dati precedenti 80% di miglioramento di una angina di una classe di angina 30% di miglioramento di almeno due classi di angina in questo studio prospettico il reducer 1 l'idea è anche di avere dati più obiettivi quindi test a sforzo a bicicletta e 6 million working test pre e post impianto per vedere anche dati obiettivi di miglioramento il secondo studio è uno studio retrospettico fatto a livello europeo con Gran Bretagna e Israele in cui sono stati inclusi 658 pazienti quindi è la corta più grande fino adesso trattata con il reducer questa è in fase di pubblicazione e anche qua vediamo dati paragonabili in termini di miglioramento di classe anginosa e l'ultimo studio che è in fase di setup è lo studio americano che sarà un po' lo studio Pivotal per il reducer per cercare di ottenere l'approvazione dell'FDA è uno studio fondamentalmente paragonabile al COSIRA che si chiama COSIRA2 in cui l'obiettivo è cercare di raccogliere dati su 400 pazienti e randomizzarli al trattamento con il reducer oppure una terapia sham e avere una valutazione in doppio cieco quindi il paziente in cieco e i valutatori a livello dell'angina o anche in cieco per vedere se c'è un effetto reale del reducer non soltanto sui sintomi ma anche su parametri più obiettivi tra cui il tempo di sforzo al test a sforzo che dovrebbe essere un po' imprimato quindi in conclusione il reducer è una soluzione relativamente semplice per una situazione anatomica e clinica veramente complessa i benefici clinici sono intorno al 70-80% rimane un 20-30% di non risponder come l'abbiamo chiamati il focus attuale è soprattutto sulla qualità di vita dei pazienti non c'è ancora evidenza di un impatto prognostico del device e fino adesso la evidenza clinica in termini di riduzione obiettiva del burning schemico è abbastanza bassa quindi questo è sicuramente un dato che deve essere migliorato uno studio largo randomizzato e pianificato per cercare di dare la conferma finale dei dati preliminari dimostrati fino adesso e per dimostrare anche una riduzione del burden ischemico grazie mille per l'attenzione spero che ci siano domande e discussioni bene grazie dottor Agostoni per questo completo up to date sul reducer dispositivo che le cardiologie hanno iniziato a considerare per i frequent flyer tra i nostri pazienti per angina refrattaria ma e come dire conclude bene questa sessione in cui giustamente i relatori precedenti il dottor Zimarino e il dottor Garbon hanno però sottolineato che anche nei pazienti con angina refrattaria bisogna considerare la possibilità di rivascolarizzazione con tecniche particolarmente avanzate e attraverso appunto operatori di grande esperienza sia clinica che come emodinamisti e quindi prima come dire di considerare la angina o di definire un'angina refrattaria senza altra possibilità di rivascolarizzazione bisogna considerare le possibilità di mettere il nostro paziente nelle mani del giusto operatore adesso però conclusa la parte relativa alle relazioni chiederei proprio al professor Porto che è con noi sin dall'inizio di avviare la discussione il confronto con i relatori grazie grazie mi sentite sì posso ok io avevo una serie di commenti mi limiterò a a qualcuno diciamo che il primo relatore del primo relatore mi ha molto intrigato la come dire l'idea della terapia Taylor nella un'angina refrattaria quello che però vorrei chiedergli magari fare i commenti io insomma forse possiamo discutere è che stratificare i vari sottotipi di angina poi non è così facile come le linee guida magari mettono diciamo terapia Taylor ma come li stratifichiamo i sottotipi di angina ad esempio un'angina che è microvascolare ma è passabile nel microcircolo forse è un trattamento differente per un'angina che è in cui invece il microcircolo diciamo si comporta in altro modo oltre ai test funzionari oltre diciamo alla alla fractional pro riserva e a tutti che ha a che fare nel mondo della virtualizzazione secondo il collega il test all'acetilcolina ha qualche senso in questi pazienti viene fatto lo fa grazie grazie professore allora penso che sia già difficile dall'esperienza che abbiamo classificare il paziente con angina perché poi non tutti hanno angina qualcuno ha dei sintomi simili anginosi qualcuno ha dei sintomi non tipicamente anginosi questo è il primo punto adesso quello era uno studio noi di per sé non usiamo il test l'acetilcolina ma poteva essere un'idea la valutazione funzionale è difficile certificare i pazienti molti non possono fare un test di ischemia viene contestato il fatto che il paziente migliori dal punto di vista clinico se non ha un test di ischemia e il test di ischemia di solito che viene utilizzato è la prova da sforzo ma noi sappiamo che non tutti i pazienti per esempio possono farla perché non tutti hanno delle caratteristiche somatiche per farla quindi credo che quello sia un aspetto difficile noi per esempio che abbiamo un'esperienza sulle onde d'urto non intracoronariche ma sulla shockwave terapia esterna abbiamo stratificato tutti con la scintigrafia miocardica che potrebbe essere un aspetto anche nei pazienti con quello che era un angela microvascolare potrebbe essere un'idea però è difficile dare obiettivamente dei fenotipi chiaro che chi ha la malattia coronarica occlusiva è un paziente già ben delineato e lì si può andare a interagire sugli altri concordo che sia veramente molto molto difficile però è un'idea che bisognerebbe cercare di amplificare scusa perdona non ho capito shockwave esterno per cosa? sì noi abbiamo fatto una terapia con delle onde d'urto esterne c'è la stessa filosofia delle onde d'urto intracoronariche che è stata utilizzata adesso in realtà che arriva dalla litotripsia è stata utilizzata anche per l'arrivazione miocardica non invasiva e ha dato degli ottimi risultati poi non è non è stata messa in linea guida però ci sono diversi studi che ci dicono che tramite una sorta di cavitazione uno share test cellulare in realtà migliora la perfusione noi abbiamo fatto uno studio su circa abbiamo pubblicato su 250 pazienti quasi e avevamo una riduzione dell'ischemia strumentale scintigrafica pre e post del 34% con un miglioramento della classe funzionale anginosa di due classi di circa il 40% però c'è da tenere conto di una cosa c'è un aspetto che viene da considerare che è l'effetto placebo sul paziente perché qualsiasi cosa facciamo al paziente può avere un effetto placebo quindi anche quello è da considerare abbiamo fatto fare a tutti un test che ha fatto vedere anche Garbo prima in realtà il paziente sta meglio però non sappiamo se sta meglio perché sono state le onde d'urto oppure perché è stato meglio perché c'è una componente placebo l'ischemia ci ha dato ragione quindi voglio dire è un ambiente è un campo molto difficile quello dell'anginale frattaria cioè se io ho un'occlusione cronica e so che lì c'è l'ischemia credo che Garbo ci abbia dimostrato che vale la pena farlo però su pazienti che non hanno una classica malattia coronarica credo che le onde d'urto intercoronariche siano un grosso un grosso vantaggio però su quel paziente non definito è comunque un paziente dove è difficile scegliere la strategia cioè posso usare tutte e tre o quattro però è difficile anche definire qual è il paziente che ha quella fisiopatologia credo che questo sia un aspetto molto molto complesso posso collegarmi a quello che tu hai detto adesso cioè al di là dei pazienti che hanno una chiara anatomia coronarica che giustifica l'ischemia anche se poi la rivascularizzazione può essere più o meno complessa mi interesserebbe mi interessa sapere qual è l'esperienza del dottor Agostoni immagino che ci sia ad ascoltarci in merito in merito all'angina microvascolare che è una delle condizioni con le quali abbiamo spesso a che fare e sono condizioni che spesso ci mettono in crisi verso le quali la terapia medica spesso è per lo più assolutamente inefficace e quindi vorrei sapere quale spazio o se lo ho in questi pazienti il reducer possa avere uno spazio significativo di utilizzo bellissime presentazioni e grazie per avermi con voi per rispondere alla domanda l'angina microvascolare è un campo ancora sicuramente da capire ultimamente ci sono anche tante tecniche invasive per cercare di definire che cos'è uno dei problemi principali secondo me è che abbiamo pazienti con sintomi e secondo me è importante cercare di avere anche un dato obiettivo che confermi che i sintomi sono veramente cardiaci quindi se il paziente ha soltanto angina soltanto tra virgolette perché comunque è il sintomo principale però non riusciamo a dimostrare che c'è un test non invasivo che dimostri ischemia faccio fatica a trattare questo paziente con qualcosa di superiore a una terapia farmacologica se però il paziente ha angina non ha malattia coronarica rilevante ed ha un test ischemico positivo che può essere una scintigrafia può essere uno stress eco può essere uno stress MRI che è molto molto specifico per la angina microvascolare in questo caso allora si può pensare di usare tecniche innovative come effettivamente il reducer e ho una serie di pazienti trattati così non tantissimi perché è difficile avere tutti i tasselli nel loro posto e devo dire che nella mia esperienza personale il reducer sembrerebbe funzionare e non sono l'unico che lo dice c'è anche il gruppo di Giannini e di Colombo che ha fatto la prima pubblicazione sull'argomento era un gruppo ridotto di pazienti 8-9 pazienti dove però hanno dimostrato che in 8 mi sembra 9 pazienti hanno dimostrato che in 8 dei 9 c'era un beneficio clinico in termini di riduzione d'angina e hanno anche dimostrato una riduzione dei parametri ischemici con la stress MRI quindi c'era anche una conferma strumentale della riduzione d'angina a livello di stress MRI quindi erano dati sicuramente interessanti che danno qualche speranza a questi pazienti quindi sicuramente è un campo ancora da definire però è un campo in evoluzione quello che abbiamo adesso in sala demodinamica sono anche dei test invasivi per dimostrare l'ischemia nei pazienti che non hanno malattia coronarica possiamo misurare le resistenze coronariche ci sono delle nuove tecniche che sono diciamo delle tecniche derivate dalla guida per misurare l'FFR dove si misurano altri parametri appunto le resistenze si usano delle tecniche come la termodiluizione intracoronarica per cercare di fare una valutazione dei flussi coronarici e definire queste cose e questo probabilmente nel futuro permetterà di definire meglio questi pazienti e si spera che poi appunto una volta che dimostrata l'ischemia a livello miocardico anche in modo invasivo possiamo trattarli con device nuovi ecco sicuramente questi casi queste terapie non sono mutuamente esclusive nel senso che è difficile che abbiamo se abbiamo il paziente con l'occlusione cronica e con dei sintomi molto importanti e Roberto ce l'ha mostrato molto bene i sintomi sono la principale indicazione della CTO e quindi questo va considerato però è chiaro che tu ci hai mostrato dei pazienti se ho capito bene per lo più pazienti coronarici complessi già con bypass con rivascolarizzazioni multiple cioè non il paziente a coronarie tra virgolette indenni ma pazienti a coronarie estremamente così malate da non essere più trattabile credo che l'ospetto dei nostri pazienti sia talmente ampio che possiamo avere l'avere più terapie possa darci delle soluzioni in pazienti diversi quindi non mettere mai in antagonismo delle specifiche metodiche che ci avete mostrato essere estremamente affascinanti anche dal punto di vista fisiopatologico io posso aggiungere proprio quello secondo me non c'è c'è un paziente può fare la CTO può mettere reducere e può fare una terapia massimale o può fare le shockwave terapie esterna e questo perché con quel singolo paziente magari non sempre la CTO gli mirola completamente i sintomi anche se riapro la coronaria perché è difficile che ci sia un paziente sintomatico che ha un monovaso chiuso e basta di solito comunque ha una malattia coronarica diffusa quindi il CTO e il reducere possono assolutamente andare d'accordo come può andare d'accordo l'intracoronarica lo shockwave intracoronarico in una disonna magari diffuse con calcio e il reducere ecco io credo che questo sia un po' il messaggio che lo stesso paziente deve secondo me avere una terapia plurima per farlo star meglio cioè poi lo scopo non è chi ha fatto che cosa ma che il paziente stia meglio se posso aggiungere una cosa velocissima su questo discorso io sono un operatore CTO non sono a livello di Roberto però ci sto provando fondamentalmente c'è un discorso anche di rischio che deve essere preso in considerazione di rischio globale non soltanto il rischio della CTO perché so benissimo che una CTO nelle mani di Roberto i rischi sono bassissimi perché Roberto è a un livello estremamente alto però può essere anche un discorso per esempio di insufficienza renale se un paziente ha un'insufficienza renale importante un GFR di 30 esporre il paziente a una dose consistente di contrasto legata alla procedura CTO anche se possiamo ridurlo però comunque di solito è difficile ridurlo in modo drammatico in un paziente così scegliere il reducer come primo approccio dove gli fai 20 cg di contrasto è una soluzione intermedia potenzialmente interessante se fallisce il reducer puoi sempre fargli la coronaria in seconda battuta quindi sono esattamente due terapie che non sono mutualmente esclusive possono essere integrate nel tempo e questi pazienti sappiamo che tendenzialmente hanno una prognosi non drammatica quindi sono pazienti che rimangono in vita ma rimangono sintomatici l'obiettivo è ridurgli i sintomi quindi anche la scelta di un device deve essere valutata nella complessità del paziente in base a tutto il rischio potenziale del paziente posso fare una domanda a Roberto io così lo chiamiamo un po' in campo perché sta un po' in parte il mio amico Roberto allora Roberto non io concordo con quello che ha detto il dottor Agostoni nelle tue mani una CTO è come per noi qualcosa di molto meno complesso però dall'altra parte le CTO si stanno il trattamento delle CTO si sta diffondendo sul terreno ci sono molti centri l'hai detto tu stesso che vogliono aumentare la loro casistica anche centri diciamo che non hanno un volume elevatissimo in termini di procedure non CTO lo dico proprio ma non sei un po' preoccupato tu stesso che fai il proctor e che dici che diciamo bisogna fare le CTO in pochi centri molto come dire molto buoni che stanno in grado di gestire le complicanze del fatto invece della polverizzazione del CTO sul territorio Italo ti ringrazio per la domanda perché apre una serie di considerazioni importanti intanto il livello comunque ad esempio nazionale è molto migliorato in questi anni il trattamento delle occlusioni croniche la conoscenza dei materiali ha consentito proprio di migliorare anche nel trattamento quotidiano dei pazienti più complessi che non hanno un'occlusioni cronica ma hanno una malattia in biforcazione tronco comune lesioni calcifiche eccetera eccetera cioè noi dobbiamo renderci conto che tutti i giorni come tu sai bene trattiamo pazienti sempre più complessi abbiamo dei materiali gli stem medicati sono stati la vera rivoluzione secondo me degli ultimi 15 anni i pazienti vengono trattati meglio di una volta cosa succede che abbiamo anche dei giovani emodinamisti che lavorano molto bene perché lavorano tanto e quindi un giovane sotto i 40 anni ha già una grossa esperienza perché 200-300 angioplastiche all'anno ti consente comunque di arrivare dopo 5 anni a aver fatto 1500 interventi cosa che ad esempio per la cardiochirurgia secondo me in questo momento non è fattibile per cui abbiamo tutti i favori di questa attività che per l'interventista sta aumentando e dobbiamo anche considerare che le oclusioni croniche sono sempre state sottotrattate negli anni passati adesso con l'utilizzo delle tecniche la valutazione corretta dell'indicazione dei pazienti anche un centro che di media come numeri comunque intermedi che può fare 5-6-700 angioplastiche le sue 50-60 cito all'anno le può fare cioè è importante avere una curva di apprendimento che è graduale con degli step molto chiari avere degli operatori che valutano bene il caso e non fanno procedura ad hoc ma pianificano la procedura utilizzano operatori di esperienza per migliorare la propria capacità e si forniscono di materiali adeguati poi è chiaro che ci sono un 20% di CTO molto complesse che devono essere poi in ogni caso riferite a operatori molto più esperti questo è inevitabile se posso aggiungere un rapido commento c'è che la diffusione anche all'operatore non CTO delle tecniche di CTO secondo me diciamo migliora delle tecniche dei materiali di CTO migliora in maniera massiccia l'outcome dell'angioplastica complessa anche se non CTO che poi effettivamente ci troviamo anche come dire anche in centri che non hanno appunto una vocazione di CTO a fare quotidiano io infatti mi rendo poco conto che gli operatoni diventano operatori migliori poi Piafrancesco in realtà è un ottimo operatore di CTO ci siamo visti in questi due giorni a Milano al Tobi che abbiamo fatto dei live insieme mi piace molto questo suo approccio mentale alla interdisciplinarità come ha detto Gianluca come ha detto la dottoressa Chinaglia sono tecniche che non sono esclusive ma lo scopo è trattare bene il paziente e quindi anche il Reducer che è una innovazione che speriamo continua a essere sempre più confermata dagli studi sicuramente ha già uno spazio ne avrà sempre di più nei pazienti che noi dobbiamo andare a selezionare correttamente secondo me l'angina microvascolare potrebbe essere una nicchia molto importante interessante assolutamente interessante e comunque ci si aprono degli scenari anche sui pazienti senza tenosi critiche c'è tutto un campo molto molto interessante su questo quindi credo che il futuro possa darci delle belle sorprese su questo argomento se posso ancora aggiungere anche una cosa ma come messaggio di rinforzo a quello che è stato detto durante quest'ultima discussione davvero di fronte a pazienti di questo tipo dobbiamo come dire metterci intorno a un tavolo e cercare di comprendere bene con chi abbiamo a che fare conoscere la clinica l'anatomia confrontarci e anche questo tu l'hai sottolineato in modo multidisciplinare per scegliere veramente in quel momento la tecnica più giusta sapendo che sicuramente tecnologia dispositivi e esperienza skill degli operatori degli emodinamisti sono cresciuti tantissimo quindi a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa davvero oggi possiamo abbiamo un ventaglio di opzioni e abbiamo la possibilità di taylorare una terapia giusta per quel paziente e in quel momento a questo punto ringraziamo tutti sia quelli vicini che quelli lontani e comunichiamo appunto al pubblico che la lettura delle 19.30 sul covid-19 è già in corso nella prima sala vi potete collegare tutti e comunque sappiate che la lettura è comunque registrata quindi quanto è stato perso potrà essere comunque riascoltato grazie a tutti e buona serata e complimenti per le relazioni grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti